Ehi ragazzi, sapete cosa ci è successo ieri? No, no, no! Gli intruisti ci hanno rintrogerato perché Luca ha buttato una cartina per terra. E ci hanno detto che non dobbiamo sporcare godizia perché è una città bellissima. Ma che cosa vuoi che sia un pezzo di carta? Ma come hai buttato una cartina per terra? Ma sembra un incivile! Ma veramente c'è ancora gente che butta cartina per terra? Io? Qualcosa mi capita! Ma dalla Gorizia è una città pulita? Sì! No! Sì! Sopra no! Secondo me Gorizia non è una città tanto pulita. Certe cose potrebbero migliorare. Sì! Ma voi fate la raccorta differenzata? Sì! Ma su Città del Libro ci sono informazioni della nostra città. Sì! Dobbiamo connetterci! Sì! Ah, ecco qua la città di lista. L'Ipa è Ambiente e Territorio. Guardate, nel 2018 Gorizia è arrivata al 64,2% di raccolta differenziata. Guardate però Bordenone, è all'86,4%. Guardate, ogni cittadino goriziano produce 483,8 kg di rifiuti all'anno. E quindi io arrivo a consumare quasi 500 kg di rifiuti all'anno. Nella nostra regione, nel 2017, ogni abitante ha differenziato 317 kg di rifiuti. E gli altri 170 kg dove vanno? Perché non proviamo a fare una raccolta di dati sul nostro consumo di plastica? Buona idea! Gabriele, hai più panze ai bottigli di plastica di un'altra settimana? 5 o 4? E tu di chita? Boh, io non lo ho visto mai. Zero. Guardate, dai dati che abbiamo raccolto, risulta che consumiamo 76,5 bottiglie di plastica a settimana. Guarda, mangiate! Sì, sì, sì. Perché non facciamo un sitato online? Sì, è mandato da chi c'è parenti. Sì, buona idea! Ragazzi, siamo arrivati a 5,6% di risposta. Wow! Guardate, delle persone che hanno risposto, il 42,3% sono dai 10-11 anni. Guardate, dei 51,5% non butta via nessuna bottiglietta di plastica. Non è male! Però, blocco di 2,5% più di 5%. Adesso sappiamo molte più cose sulla nostra città. Così possiamo migliorare la situazione. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!